Oggi ve le suono! Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te! Non abbiate paura, la mia non era una minaccia, era solo un'anticipazione sfiziosa sul contenuto del video. Come avrete sicuramente letto dal titolo, oggi faremo delle decorazioni per l'albero di Natale a forma di note musicali. Prima però di farvi vedere come si fa questa magia, cliccate su iscriviti se non lo avete ancora fatto e cliccate sulla campanella per essere avvisati quando pubblicherò un nuovo video. Mi raccomando, seguitemi anche su Facebook e su Instagram, trovate il link qui giù in info box dove c'è scritto Mostraaltro e seguitemi anche sui miei altri due canali, Ombretta, il mio canale di lifestyle bellissimo e Due Cuori Una K, il mio canale di cucina che ho insieme a mio marito Gabriele. Golosissimo! Sia il canale che Gabriele. E allora, seguitemi in tutto il mio mondo social, ma soprattutto seguitemi sul piano da lavoro e andiamo a vedere come fare decorazioni per l'albero di Natale a forma di nota musicale. Quanti ha le? Ed ecco l'occorrente per creare le nostre palline note musicali. Allora, ci occorreranno delle palline da decorare, quelle in plastica che vendono in tutte le cartolerie. Io ne ho prese due piccole e una un po' più grande. Userò le palline più piccole per la nota con due punti e la pallina più grande per la nota con un punto solo. Cominciamo subito. Quindi, in totale, tre palline. Del glitter e del fommi dello stesso colore. Io ho scelto di farle dorate queste note perché nere mi sembravano troppo gravose, mentre dorate mi sembrano più adatte allo spirito di Natale. Un pennello per spennellare della colla vinilica. Un laccetto per appendere le nostre note. Io ce l'ho del colore delle note, quindi dorato. Pistola per colla a caldo e relativa a stecca. Un foglietto di acetato che potete ricavare anche dalle confezioni. Vedete questa confezione di alberelli che ho preso all'IKEA? È completamente rivestita da dell'acetato e tra l'altro è un acetato ben più pesante di questo e quindi anche più adatto. Un foglio di gomma crepla glitterata del colore con cui volete fare le note. È una penna che scriva sul foglio di acetato. Come prima cosa sul mio foglio di acetato disegno quelle che saranno le forme delle attaccature delle mie palline, delle note. Ora vi faccio vedere. Qui sto facendo la nota con due punti. Mentre qui facciamo la nota con un punto. E voilà. Poi questo lo attaccheremo a questo punto alla pallina. Ritagliamoli. Non appena le avremo ritagliate, quello che dovremo fare sarà ricopiarle sul fommi, ricalcandone i margini. Dovremmo ricalcare sia in un verso che nell'altro. Io questo per rovinare meno fommi lo giro e lo ricalco qui. E adesso ritagliamo. Arrivati a questo punto prendo la colla vinilica. e le mie sagomine, quelle che avevo fatto prima. Quindi spennello sulla mia sagoma di acetato la colla vinilica. Lascio tirare un attimo e adagio la sagoma di fommi. Facendola combaciare perfettamente. Ritaglio un po' di fommi per lasciare un po' di questa parte in acetato libera. Che mi servirà per fare abbracciare la parte alta della nota alla pallina della nota. Quindi colla anche sul retro o se volete potete incollarla anche direttamente qua sul fommi. Tagliamo anche qui l'eccesso di codina. e andiamo a far aderire alla sagoma. In questo frangente prendiamo il laccetto tagliamolo attacchiamone un capo nella parte davanti e un capo nella parte posteriore così della nota. Bene. Mettiamo ad asciugare questo pezzo e facciamo invece la biscroma sempre nella stessa identica maniera. Quindi colla su tutto. mentre le sommità delle note stanno asciugandosi io spennello di colla tutte le palline e butto il glitter sopra la mia pallina ricoprendola tutta e la lascio riposare sempre qui sul glitter nel frattempo preparo anche le altre. Adesso prendiamo le nostre note musicali e copriamo di glitter anche i bordi quindi passiamo la colla sul margine e dopo aver bagnato i margini di colla li tuffiamo nel glitter e spolveriamo in modo che venga rifinito anche ogni lato della nostra nota. non compio tutta la lunghezza della sponda laterale ma mi fermo così lasciando due centimetri senza glitter perché poi quella parte dovrà entrare a contatto con la pallina e aderire a lei tramite la colla a caldo quindi per adesso non la occupo. Una volta bordato tutto lasciamo asciugare e facciamo la stessa cosa anche con la croma anche qui tutta la lunghezza tranne gli ultimi 3-4 centimetri che sono la parte che andranno a contatto con la pallotta e quindi mi serve il margine libero per poter poi meglio far aderire la colla a caldo ecco quindi mi fermo più o meno qui e lasciamo asciugare il tutto. Arrivati a questo punto arrotondiamo leggermente così in modo da fare seguire la rotondità della sfera vedete così e fare in modo che il beccuccio della mia sfera possa essere inserito all'interno del mio fommi quindi apro un po il lavoro che avevo chiuso a questo punto colla a caldo su tutto il beccuccio e inserisco in maniera trasversale un po obliqua la pallina e senza bruciarmi spero chiudo prima però metto della colla a caldo anche sul margine e lascio aderire così da una parte e anche dall'altra in un secondo tempo poi rivestirò questa parte della colla a caldo con del glitter ma prima farò asciugare del tutto una volta asciugatasi la colla a caldo prendiamo di nuovo la vinavil prendiamo le nostre palline ripassiamo lì dove c'è la colla a caldo da coprire per mimetizzare gli agganci in questo frangente io ripasso su tutta la pallina perché l'oro del mio fommi è più debole rispetto all'oro del mio glitter quindi nel frattempo approfitto per dare una mano tutta unitaria al colore delle palline voilà e la nota è bella è pronta ora completo questo lavoro con tutte le note e poi ci vediamo per le foto anche se la rima avrebbe detto per le foto ma no non lo farò è bella Grazie a tutti. 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 I miei contenuti meritino diffusione e di questo io vi ringrazio, grazie infinitamente. Benvenuti a tutti i nuovi iscritti, bentrovati a tutti i vecchi iscritti, vi abbraccio forte forte e grazie per far parte della nostra famiglia creativa. Noi ci vediamo sempre qui per un prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, buona preparazione al Natale. Ciao!